Ciao ragazze, finalmente è arrivato il momento di anticiparvi, di dirvi quali saranno le prossime due tappe del mio tour con noventa che sta ricominciando appunto dopo l'estate, questo evidentemente vuol dire che sta ricominciando Allora, ho due tappe da annunciarvi, come da titolo, quella di Bologna che sarà questo 26 settembre, quindi tra pochissimo, appunto al Media World di Bologna in Viale Tito Carnacini 25, mi raccomando Ehm, perché ce ne sono due diverse di Media World, quindi questo è quello in cui ci sarò io, appunto il 26 di settembre inizieremo alle 16 e poi Ah, e per arrivare si può prendere l'autobus 14 direzione Pilastro, fermata Siglinolfi, ho chiesto anche informazioni per chi volesse arrivare con i mezzi E poi, evento numero 2, incontro numero 2, il giorno dopo, quindi domenica 27 settembre al Barberino Designer Outlet in via Meucci, Barberino del Mugello, è il paese in provincia di Firenze L'evento inizia alle 15 e 30 e all'interno dell'outlet l'evento sarà al Campetto di Puma, nei pressi del punto vendita Home & Cook, quindi mi raccomando insomma Ehm, e si può arrivare all'outlet di Barberino in macchina oppure c'è il servizio di navetta e sul sito dell'outlet se andate avete tutti quanti le, tutte quante le informazioni e gli orari della, della navetta appunto da Firenze Quindi ragazzi, ragazze, io vi aspetto, emozionatissima come al solito perché ad ogni incontro mi tremano le ginocchia Ma non vedo l'ora di incontrarvi tutti appunto il 26 settembre al Media World di Bologna di Viale Tito Carnacini, 25 dalle 16 in poi E poi il giorno dopo, domenica 27 settembre al Barberino Designer Outlet che è tipo a 30 km da Firenze in via Meucci, Barberino del Mugello, è il paese, dalle 15 e 30 in poi Quindi ragazzi, ragazze, io non vedo l'ora di incontrarvi sia a Bologna che a Firenze prestissimo perché appunto il 26, 27 settembre non manca moltissimo E un'altra cosa che hanno pensato quelli di Roventa per voi perché volevo che ci fosse insomma un omaggio, un qualcosina Allora, tutte le partecipanti che acquisteranno un qualsiasi prodotto Roventa Beauty avranno sia in quel giorno naturalmente, nei giorni del mio incontro Avranno in regalo una palette di ombretti della Debbie e poi una foto Polaroid con me e con il mio autografo naturalmente Se avete voi la macchina fotografica, come al solito ci possiamo fare miliardi di foto selfie Ultimamente sto notando che vanno molto le selfie ai miei incontri quindi sì, ci possiamo fare le foto assieme Potete chiedermi qualsiasi cosa, potete venire anche solo per vedermi dal vivo che è una cosa che mi farebbe super 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 piacere Perché a me piace vedere voi che mi seguite, quindi ragazzi e ragazze vi aspetto prestissimo, ci vedremo Io vi mando un bacione, alla prossima, ciao